L'etica in poche parole significa prendere la decisione giusta, una decisione che consente agli altri di avere fiducia nel risultato. Da oltre 40 anni il codice etico IESBA guida i professionisti contabili nel prendere queste decisioni nel loro lavoro quotidiano perché queste decisioni hanno conseguenze di vasta portata. Il nostro codice è la pietra angolare del comportamento etico negli affari e nelle organizzazioni e della fiducia del pubblico nelle informazioni finanziarie e non finanziarie. È l'unico codice globale nel suo genere ed è ampliamente riconosciuto da oltre 130 paesi. Riunisce la saggezza collettiva di un gruppo eterogeneo di esperti garantendo pratiche etiche di indipendenza coerenti a livello globale. Nel corso del tempo il codice si è evoluto per adattarsi al mondo in rapido cambiamento in cui viviamo e siamo orgogliosi di condividere l'ultima evoluzione, gli standardetici internazionali applicabili ai servizi di Sustainability Assurance. I temi connessi alla sostenibilità sono una delle priorità per i leader aziendali, per i consumatori, per gli investitori, per i governi, per i dipendenti e più in generale per la società. Ora ci si aspetta che le aziende non solo comunichino il ruolo che intendono assumere per un futuro più sostenibile, ma anche che spieghino i loro piani per raggiungere questo obiettivo. Di conseguenza il bisogno di informazioni sconnesse ai temi della sostenibilità da parte del mercato è aumentato in modo straordinario e con una rapidità in attesa. Queste informazioni devono essere accurate, affidabili e oggetto di attestazione. I nostri nuovi standardetici per la sostenibilità svolgeranno un ruolo cruciale nel garantire che le informazioni relative alla sostenibilità siano attendibili. Affidabili per i consumatori, che vogliono sapere se le affermazioni di un'azienda sull'impatto ambientale dei loro prodotti sono corrispondenti al vero. Affidabili per gli investitori, che cercano trasparenza e accuratezza su cui basare le proprie decisioni di investimento. Affidabili per tutta la società, poiché, come abbiamo visto troppe volte in passato, la mancanza di standardetici o la loro mancata applicazione può portare a eventi aziendali deprolevoli con un impatto sociale ed economico di vasta portata. Il nostro nuovo codice sarà fondamentale nel portare una visione etica sia nelle attività di preparazione sia nelle attività di attestazione delle informazioni relative alla sostenibilità e questo in tutto il mondo. È importante ascoltare tutti i gruppi coinvolti nella rendicontazione e nell'attestazione delle informazioni di sostenibilità, inclusi gli utenti, i soggetti responsabili della predisposizione di tali informazioni, i regolatori, gli enti preposti all'emanazione della normativa, gli organismi a cui è deputata la vigilanza. Incoraggiamo dunque tutti a leggere gli standard proposti e a fornire le proprie osservazioni entro il termine del periodo di consultazione. Maggiori informazioni sugli eventi che lo ESBA organizzerà i maggiori materiali di supporto relativi al progetto saranno disponibili sul sito internet di ESBA e nei relativi canali di social media.